Ma buon salve ragazzi! Io sono Nova ma potete chiamarmi anche Albi. Negli anni ho sempre aspirato di aprire un canale YouTube, ma mai ci sono riuscito ma... eccoci qua! Allora mi presento prima di tutto. Sono Nova ma potete chiamarmi anche Albi. Nel mio canale porterò un po' di tutto da video su argomenti del momento portati in modo ironico a video anche leggermente più seri, da parodie a critiche e tante altre cose. Per la frequenza cercherò di portare più video possibili ma tenete conto che per editare questi video ci metto tutto me stesso e contate anche che non ho le migliori attrezzature, ho un microfono col filtro neanche dei migliori, ho un computer possiamo dire abbastanza discreto e non dispongo di una vera e propria videocamera. Quindi forse non ci saranno video tutti i giorni ma i video saranno tutti di qualità contando anche che faccio tutto io senza l'aiuto di nessuno. Ma allora già che ci siamo metti like iscriviti e condividi per supportarmi e aiutarmi a comprare attrezzature nuove se ti piacciono i miei contenuti o almeno se ti piace quello che ti ho raccontato dei miei contenuti perché ancora di miei contenuti non ho portato nulla iscriviti e niente ci si vede alla prossima!